Bella ragazzi, qua i Ghiotto, buon inizio settimana a tutti ragazzi ed è anche l'inizio della seconda parte di ritiro della nostra Lazio. Si è concluso la prima parte da Bronzo di Cadore, oggi già si sono allenati nel pomeriggio, sono a Marienfield. Il ritiro diciamo molto breve, oggi lunedì 2 agosto fino a sabato che si concluderà poi con questa tappa in Olanda dove giocheremo l'amichevole più attendibile, più affascinante, più bella, Tuente-Lazio sabato se non erro alle 19.30. Mercoledì però ci sarà Lazio-Mepen che è una squadra di terza divisione tedesca, quindi paragonabile diciamo al Padua che comunque, lo sappiamo, ci ha messo in difficoltà l'altro giorno. Mercoledì alle ore 15 che io tra l'altro non lavoro, quindi seguiremo, faremo il video post partita perché diciamo che il calcio ad agosto inizia a contare già un pochettino di più perché ragazzi manca meno di 20 giorni, noi esordiremo sabato 21 contro l'Empoli, squadra ex di Sarri quindi ormai ci siamo e c'è chi già fa il countdown, io ancora me la prendo tranquilla perché penso e spero che la Lazio faccia ancora, non voglio dire tanto, però qualcosina sul mercato. Io voglio ricordare una cosa, che tutti gli acquisti fatti finora, i vari Anderson, Isai, Romero non sono ancora ufficiali perché i contratti non sono ancora stati depositati, ovviamente non c'è nulla di allarmante però bisogna cedere, però non voglio dire altro perché tanto è un mese che diciamo che la Lazio deve cedere che o cediamo Correa che è partito per Marinefield però ha detto che vuole andare via a me questo, sapete, un po' dispiace perché poi i nomi che si fanno per il dopo Correa non mi attizzano poco ragazzi, proprio poco poco rischiamo di prendere, non voglio dire dei bidoni, però delle grosse incognite Correa, certo, magari non era un giocatore, faceva 20 gol, non era sempre continuo però il talento del Tucumano direi che non si discute gli esuberi, manca parlarne, non si riescono a vendere tra l'altro andiamo un po' a vedere questi convocati, ok, per questo ritiro e più che altro chi è rimasto fuori partiamo da loro, allora, rimarranno a Formello, Durmisi, Fares, Adecanie e poi, beh, in primavera Bertini e Sheo, poi Armini non ha fatto parte neanche di ritiro di Euronze e anche Lukaku è fuori dal progetto di Sarri questo cosa vuol dire ragazzi? che il mercato delle ultime stagioni è stato sbagliato tra l'altro, chi mi segue spesso in live, mi avete chiesto ultimamente di Fares, di Adecanie che sono due giocatori che magari, secondo qualcuno, possono migliorare potevano far parte della Lazio e io ve l'ho detto, cioè Fares, sì, si può anche impegnare però ragazzi, quando non ce n'è, non ce n'è non sarà mai un giocatore da Lazio ma neanche una prima riserva può fare la riserva delle riserve Momo, Fares, io li voglio bene un ragazzo che si impegna, quello sì però proprio ragazzi, non è da Lazio stop, stop e in Serie A, ad oggi, secondo me, farebbe fatica veramente a giocare un po' dappertutto a parte forse nelle neopromose però, vabbè, è stato un acquisto ho sbagliato, 8 milioni, eh io lo ricordo sempre poi, Durmisi, lasciamo perdere Adecanie, anche se è giovane c'è la classica frase ah, il giovane potrà migliorare ma il giocatore è forte si vede subito Adecanie proprio non ha la tecnica di base non ha neanche il fisico ha una corra, è agile ma neanche tanto cioè, io lo prendevo in giro dicevo, è l'unico ragazzo di colore che è piccolino che non ha il fisico cioè Adecanie, ragazzi se aspettiamo lui se aspettiamo Bobby siamo messi male infatti Sarri ci vede lungo no, perché poi io vi posso dare le mie sensazioni però, se Sarri li esclude eh, fate due più due ci sarà un motivo però, veniamo ai convocati allora, portieri Adamonis, Reina, Stracosce qua, vabbè non ci sono dubbi poi vediamo il dualismo tra i due chi vincerà ovviamente io spero giochi Stracosce perché vabbè Reina non è un portiere futuribile è un giocatore che ormai ha praticamente 40 anni magari si alterneranno però il titolare secondo me deve, sarà Thomas Stracosce poi difensori Acerbi Zai Kamenovic quindi un nuovo acquisto e anche Zai Lanzari Marotic Patrick Radu Ramos e Vavro quindi Vavro dovrebbe aver convinto ciò cosa vuol dire che non compriamo nessuno in difesa perché al momento abbiamo centralmente Acerbi Luis Felipe che dovrebbero essere i titolari attenzione sempre alla questione Atalanta poi Patrick Radu Vavro eventualmente Kamenovic poi vabbè Patrick Kamenovic c'è anche lo stesso Radu non sono dei difensori centrali puri Vavro lo è vi sembra una difesa di una squadra che punta arrivare quarte magari fare una buona Europa League punto interrogativo secondo me no assolutamente no già non lo era giocando a tre perché era un reparto già in difficoltà perché se Acerbi non reggeva la baracca se Luis Felipe non era in forma la difesa era mediocre con tutto rispetto passando a quattro ancora di più perché poi meccanismi diversi ci vorrà un po' per ogliare gli ingranaggi ma al momento di difensori non se ne parla centrocampisti Acqua Pro Andre Anderson Cataldi Escalante Leiva Luis Alberto Milinkovic anche qua allora i tre titolari che dovrebbero essere Leiva Luis Alberto e Milinkovic sono buoni forse il centrocampio più forte d'Italia ci può anche stare come considerazione però se ne manca uno se Leiva non riesce a giocare tre partite alla settimana che è così se Leiva come al solito si infortunerà avrà qualche affaticamento chi gioca? cioè ragazzi Escalante l'abbiamo visto che non è un giocatore da Lazio da fare il titolare Cataldi idem Andre Anderson ragazzi idem con tutto rispetto Acqua Pro è un giocatore che ci sta però è un giocatore diverso che fa legna quindi anche qua centrocampo vediamo adesso Basic se arriverà ma no basta non basta cioè io continuo a dirlo ad oggi non siamo assolutamente dal quarto posto io non ho l'ossessione di arrivare quarto e quest'anno io voglio iniziare un bel progetto poi se i risultati arrivano bene però non voglio avere la fissa di arrivare quarto mi interessa divertirmi che la squadra giochi bene che iniziamo a gettare le basi per una grande Lazio perché con Sarri abbiamo iniziato un progetto a lungo termine però ovvio che il progetto nostro non deve chiamarsi Sarri e Stop non è che è arrivato il messia che deve fare i miracoli deve essere supportato dal mercato e per me ad oggi è insufficiente io ero contento le prime settimane di mercato ci eravamo mossi bene ma adesso due settimane che immobilismo totale e non si sblocca la situazione perché non riusciamo a cedere vabbè attaccanti Caicedo Correa Anderson immobile Johnny va bene che verrà schierato più avanti comunque ha convinto Sarri Murici attenzione perché in Germania dicono che ci sono delle squadre interessate a Vedat Raul Moro e Romero allora questo è un reparto già che mi piace di più ben diciamo amalgamato secondo me ovvio adesso vediamo un attimo chi partirà tra Murici e Caicedo secondo me cedere Caicedo potrebbe essere un grosso errore poi sugli esterni poi dovrebbe arrivare un altro vediamo però ci sono questi due giovani rampanti Raul Moro e Romero che ho molta fiducia in loro soprattutto nell'ultimo su Luca Romero che io anche lì come vi ho detto il giocatore forte si vede subito cioè io ho visto una partita due di Romero che poi non ha giocato neanche 90 minuti però ragazzi sto qua è forte poi magari si perde poi magari tutto quello però ragazzi sto qua ha qualcosa in più degli altri quindi io ci punto su questo giocatore però ripeto mercato al momento altamente secondo me insufficiente perché le altre è vero che non hanno fatto tanto però tanto mi sembra che negli ultimi giorni si muoveranno sicuramente si stanno muovendo e poi voglio dire io non è che devo guardare gli altri devo guardare me o devo guardare chi fa meglio non chi fa peggio di noi ok al momento la società non posso dire abbia lavorato male però c'è sicuramente qualche qualche difficoltà a comprare ci potrebbe essere un ritorno di Pereira dal My United tra l'altro ha fatto un gol pazzesco l'avete visto sicuramente me l'avete inviato su Instagram seguitemi tra l'altro su Instagram dicono possa ritornare in prestito lui preferirebbe una cessione a titolo definitivo perché poi per un giocatore non gli piace rimbalzare dal prestito poi non essere riscattato è brutto per un giocatore poi di talento e vi dirò di più vedendo questo centrocampo Andreas Pereira ragazzi sarebbe un lusso come riserva magari e poi con Sarri potrebbe veramente arrendere perché Inzaghi non l'ha sfruttato a dovere chiudo con questa cosa che Sarri oltre alle due Michevole che abbiamo detto mercoledì e sabato ne chiede un'altra e ha ragione perché poi dopo diciamo il set che giocheremo col Twente mancheranno praticamente 14 giorni in quei 14 giorni sabato 14 ipoteticamente ci sta un'altra Michevole magari anche un test con una squadra di serie B non lo so vediamo cosa riusciamo a organizzare però un test sicuramente probante che ci possa dare delle risposte perché poi mancherà poi solo una settimana ok e niente quindi oggi grosse novità di mercato non ci sono vediamo per ora sempre mercato bloccato signori like al video se mettete like magari compriamo qualcuno dai forza 300 like al video iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram signori vi saluto vi ringrazio e sempre forza Lazio